Lukaku è molto nervoso, ecco intanto guardate la faccia a faccia tra Lukaku e Ibrahimovic e io credo che però sia battito tutto da una provocazione di Ibra nei confronti di Lukaku che non si amino, lo sappiamo e è alessandro raro vedere Lukaku inferocito così nervoso anche da una mancatura perfetta di Romagnoli che ha rischiato anche già